Lavori all'angolo con via Pessina per liberare la sede del torrente Valduce che scorre sotto la strada. Il problema è il materiale legnoso che avrebbe ostruito la sezione idrica del Valduce. Per questo motivo questa mattina sono iniziati i lavori in Piazza del Popolo, a seguito delle verifiche e sottoservizi effettuati la scorsa settimana. In una nota il Comune di Como informa che i tecnici lavoreranno dalle 9 alle 17 per tentare di aprire un varco nella volta e ripristinare così la piena portata della sezione. Visto l'intervento non si escludono nuovi disagi per gli automobilisti comaschi, anche se Palazzo Cernezzi ha fatto sapere che si cercherà di limitare il più possibile le difficoltà per la circolazione veicolare e non sarà dunque necessario chiudere la strada. I lavori dovrebbero concludersi entro questa settimana. Viabilità rallentata e lunghe code, soprattutto negli orari di punta, invia per Cernobbio a causa delle operazioni di potatura degli alberi. Per consentire lavori e per la messa in sicurezza degli stessi veicoli è stato imposto il senso unico alternato.